figa io mi butto tu adesso ci vedo un ragno ai migli no va che di mettere i piedi in posizione eccolo guarda guarda quanti io ho tutto attaccato ai laggi sono i ragni vado giù così alle spalle mi giro il contrario hai ragione hai ragione ma poi dentro mi giro continuo a andare giù così non mi ricordavo così stretto non è stretto non conviene eh e passala poi quando c'è anche Adriano e quando tu sei a metà Adriano te la passa io sono giù e la passi ancora devo andare giù ancora un pelo io da qua ciao saluto vai vai falli vieni 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 avanti a te davanti a te ecco bravo lì e anche dietro ce l'hai boom boom buttati giù con le mani è facilissima in realtà giù giù il piede qua bravo così boom sei dentro aspetta che mi sposto io qua non c'è già più niente eccolo cosa il tombino qui non c'è niente no si porca troia oh c'è la luce che sa cosa c'è la luce la mia puntata è la luce porca prendi anche l'altro rosso è lì nel buco e di qua cosa c'è cos'è sta roba figlio ma che concrezioni che ci sono comunque il tombino non mica è il punto più stretto della caverna eeeh boh e ma ce l'ho sentito io ecco in in questi casi la gopro rompe non poco il cazzo ciao bollino hai visto come si fa vuoi che sto qua a vedere e hai visto come ero io vai palli vabbè però ti aiuta Adri perché così sennò stiamo due sullo stesso armo non va bene di spalle Paolo posizione schiena e i piedi davanti a te i piedi davanti a te no non è libera la corda cazzo gli dici grazie 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 così qua non devi più seduto se adri dove cazzo andare? ma dove vuoi andare? di lì 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 Vai Paolino, meandrifica! Dai non è stretto No dai ci sta Si che è più stretto la sala palza Si 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 era per fare un po' di scena Un po' di filmetto La puliva di testa Eh Eh Ok Ok Vabbè, vai, 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 la tengo lì, vai Ok, vai Tirolo dietro, vai No, qua non vedi che non è aperto E' 80, che cazzo Non ho detto 80, ho detto 20 Ma lì devo andar di pieno, giusto? Cazzo, non mi ricordo, non è 60 Eh, molto male Cioè, tu nota anche che cazzo di spaccatura stiamo passando e cosa c'è dopo? Adri, ma ti posso lanciare lo zaino? Ok, allora, no, me lo spasso io e poi me lo faccio passare dall'eleo Ma lui, perché non vai di pancia? No, e vedi, qui i piedi è andato Perché? Non vai di ancora più stretto Ma perché non siete andate manchi di pancia? Cos'è che c'è dopo? Che c'è un altro pezzo di mezzo Io mi tuffo giù di testa Che c'è un altro pezzo di mezzo? Che c'è più comodo? Che c'è più comodo? scavare qua dentro non è decisamente comodo basta che ti sposti di lì così posso passare fammi vedere meandro larghezza tra 20 e 30 meandro fammi vedere staccare la line togli si è giusto giusto vai ok giù il pallinibus che scende dalla cordibus la spaccatura è enorme ma che lunga ma che lunga e metti le piene presi va bene adri va che c'è il video non dire parolacce poi mi tocca togliere il suono tutto togli la chiave bravissimo e giù vai leggero palli continuo e leggero continuo e leggero eh ti fermi però deve essere un movimento fluido fluido ok puoi regolarlo stringendo e aprendo la mano sinistra volendo lì a a a a a a va lì, illumina la parete alla tua destra l'altra, dall'altra, dall'altra parte bravo, così riprese vai vai, potete scendere mi fanno un po' di rippo ma che bello, questi robini qua ma sai quante volte in un pozzo che dicevo quello che dicevo da sotto vedi tutta la spaccatura così no, c'è un pezzettino da scendere poi il traverso ti segui in due coglioni ecco la longe ok ma semmai tu anche volendo non c'era lì, là ve ci provi striscia, striscia, striscia butta giù le gambe proprio ok vai vai vai, narcati è meglio se ne vieni in giù però vabbè se riesci a girarti è meglio girati ok adesso devi star contro mi raccomando stai bene contro la roccia vai giù, vai giù contro la roccia continua a star contro continua a star contro scendi 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 ok adesso hai qua che sclera Adriano vedrai quando arrivi giù è bella questa volta grazie e non male i pigli Paolo oppure vabbè non lancio l'ava e questo passaggio ormai si chiama? questo? eh questo? eh è stato un po' il massimo evico eh è più giù che ti bagni no occhio guarda la corda sopra fa lì non vedi che sta sfregando non va bene esatto sempre guardare da dove arriva la corda eccolo sotto l'acqua oh pipì è più giù Grazie. 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 Eh, mica meglio, mica meglio. E' ancora accesa qua, la luce lampeggiante. Guarda su, ecco qua, è questa, vedi che vedi, hai visto che figata? Eh, bella, 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 bella. Bella, 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 bella. Mi arrabbi, per la porca puttana. Si, si. si appenditi quanto sei già qua ok togli la noce ne lo so è un po' durina è un po' durina buongiorno io qua non ce l'ho mai venuto no ma tu dici una cosa devi spegnere un momento perché? qualcuno ci ha pegato dentro ma veramente chissà chi io ho tirato con uno scherzo adesso dico ma non saluta palli mi chissà è un po' durina 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 mi chissà è un po' durina